Pitu, oggi vittoria importante, non hai segnato ma la tua prestazione è stata decisiva per i tre punti. Due rigori conquistati da te che hanno permesso soprattutto quello del primo tempo di rialzare la testa. Sì, mi fa piacere, soprattutto per i miei compagni. Ci tenevo a fare una buona prestazione per essere di aiuto alla squadra. Sono contento della prestazione personale ma soprattutto quella della squadra che nonostante fossimo dieci uomini siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Esatto, numerose assenze, dieci uomini per più di un'ora ma avete dimostrato carattere e personalità riuscendo a ribaltare il risultato pur soffrendo ovviamente contro un attimo finale. Già in più situazioni abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, un grande gruppo. Noi possiamo giocarcela con tutte le squadre. Ne abbiamo già viste alcune delle pretendenti al campionato e abbiamo dimostrato di essere all'altezza di questa squadra qui. Mercoledì un'altra partita importantissima che potrebbe permettervi di avvicinarvi alla Vesta salendo al secondo posto. Ricordiamo le 15 al Broccardi recupero con la San Margherite. Ci teniamo a fare bene anche mercoledì sicuramente, stasera ci godiamo la vittoria di oggi e poi penseremo da domani alla partita di mercoledì e sarà importante esattamente come quella di oggi. Complimenti Pitù, buca al lupo. Ciao.